L'esperienza arreda con eleganza, il guscio esercita l'attività da oltre 30 anni Fornendo progetti e soluzioni di arredamento con un'esposizione di mille metri quadri allestita con mobili per interni sia in stile classico che moderno e un rapporto qualità-prezzo che non teme confronti Assicura inoltre il montaggio, il trasporto e l'assistenza